Sì, sì, ho scritto bene Allora, vi dico che è facilissimo No, il go-kart è sparito No, ho messo il go-kartino, vedete? Oh, no, no, aspettate che vado fuori, eh Il canestro è carino, scritto Oh, ma che te consegni Eh, raga, ho messo otto punti Non è che finisce subito No, ho consegnato, raga, vediamo un po' Perché ho messo che devo consegnare in aria Vediamo C'entrere più per il sui No, raga, ve lo ricordate questo bug gioio, cari te Ok, ok, così è più difficile Nomad Ok, ok Quanti punti hanno fatto? Ok, stiamo a tre pari Tutte le macchine sono buone Spawnano leggermente lontane Dai, avevo messo il go-kartino ed è sparito, regamo Perché Guardate che belle le nuove frecce moddate Spettacolari Allora, vediamo un po' chi sta a vincere Ok Dobbiamo atterrare bene Questo è il problema Se atterro in uno sotto sopra Ok, ok, stavolta punto per il suino Vediamo Sì Quante macchine ci sono Qualche suino d'ara non c'è? No, non c'è, raga, aspettate Oh, sui, che centro io che sta pure nella squadra mia Siamo quattro pari, raga Dobbiamo vincere Ho messo tre round Ma se gli frego la macchina al suino Che ho insegnato, raga Oh Ho consegnato Raga, ma è buona o non è buona? No, raga, mi sa che è consegnato, eh Sì, mi sa di sì Aspettate Se no mi diceva consegna l'auto Anzi, mi diceva sui ma che te consegni Allora Questa macchinetta è buona, buona, raga La prendiamo noi Stanno vincendo loro, non ci voglio credere, eh Aspettate Purple, invece Defa, casino Fa qualche canestrino Ok Lo devo fare leggermente più hard Però l'ho creato in 5-10 minuti questo basket, raga Ah, l'abbiamo perso, raga Mi sa di sì, eh Ok, secondo round Sapete cosa volevo fare? Volevo fare Il canestrino che facevo una volta, raga Aspettate che mi si è picciata la cuffietta, ok Che praticamente c'era la mega rampa Non so se vi ricordate Però Ci metto leggermente di più cosa, raga Cosa è successo? Tutti concentrati Nessuno che scrive Andiamo Abbiamo fatto un bel canestrino, raga Ah, mi serve una macchina Bella colorata, però, eh Ok Quelle addirittura in due Ok Che casino che c'è sta qua Dai, consegna sui Ho consegnato Raga, io non capisco Sì, sì, mi sai Deve consegnare, ok Perché non c'era nessuna scritta Guardate, appena scendiamo Non comprendo, raga Non comprendo Ma Ma lo sai che è colpa tua, sui? È colpa di Astromar che mi ha buttato Guarda che lisci che facciamo No, no, devi schivare, sui Mamma mia che schiva Avevo schivato, raga Non lo so Allora, un che veicolo spavano Ah, ho messo la Euros, ok Sueno trolloso Dai, ma perché non sono riuscito a consegnare? Allora, aspettate Praticamente ho usato la stessa tecnica Non so se vi ricordate Del Big Boss E te pareva se salivi sui Ok, vai, vai, vai Ma cosa? Ma è il nemico Non lo so, raga, cosa sta succedendo Allora Dai che dobbiamo vincere È bello La macchinetta fa la miniatura Non mi ha dato il punto Nemmeno a me, sui Non capisco Sai perché, eh? Perché ci sono troppe macchine giù Per Ah, ma qua non mi dice più Sui che ti consegni Non è giusta la macchina Aspettate un attimo No, ho consegnato Raga Mi sa che c'è sta baggaggiatto, eh Tutto normale Bischi Ok Farfalla che me devi carare Sui no porpigiamino, eh Ma qua non ci stanno macchine, sui Perché spawnano lontanissime Allora Stanno vincendo di nuovo loro No, questa è buona Sui, vai, vai Prendila, prendila Non ti preoccupa Chi è quella macchina che sta a camminare? Scusate Ah, lui Ok Vai, sui Va a far punto Vai, vai Quello che è amico Nemico Che zitti, eh Eh, non vedo nessuna parte Mi dispiace L'ho vista prima io Questa macchina Schiacciamo di nuovo Parti, parti, parti Eh, mi dispiace Qua cosa è fretta Allora Siamo pari Perfetto Per favore Dei consegnare sui, eh Allora Vediamo un po' Ok Allora Se rimani così Cosa, 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 cosa è successo 100 RP per il suino, ok Regà, com'è possibile che sta esplodendo tutto? Regà Cosa sta succedendo? Regà, c'è sacca di niente Regà, chi è che ha fatto esplodere tutto? Non lo so Oh, oh, oh Questa macchina è buona, eh Questa è buona? No Ma la gamme Solo a me la sessione Regà, abbiamo vinto o perso? Stavolta abbiamo vinto Non ci ho fatto caso ai punti Wow, wow Round vincitore Macchina che vola Ok Terzo round Regà, com'è possibile che sono esplose tutte le macchine? Io non ho messo armi Questa cosa è abbastanza misteriosa Allora Saliamo sopra questa bella calico Rossa Allora, non c'è nessuna Aspettate, non succede di por panico Quanta gente sta a saltare Ok, ok Siamo i primeri Meno male No No, rimettete bene No, regà Quando si mette così non consegna Ho consegnato 100 RP per il sui Ma è ancora buona, dai Cioè, è possibile che Non lo so, non lo so Regà, non mi chiedete niente Questa non è buona Big Porkman si ha consegnato un veicolo Quando? Allora ho consegnato, regà Possibile Forse ho capito come hanno fatto esplodere Una macchina presa a fuoco Sì, sì All'unica, regà Allora, prendiamo questa qui Che una volta c'erano i cocattini Che peccato Manco le recce bandite Posso metterlo su? Io non ho Va, sali, sali Ok, grazie Dai, non parti Grazie, grazie Sì, guarda Guarda lo che mi salva la vita Andiamo, andiamo Allora, devo prendere un'altra macchinetta, regà Stanno a combinarla Questa è spawnata lontana Però è perfetta per la miniatura Vediamo Eh, no Dai, perché sono sceso così? Non lo so Grazie Questa è perfetta per la miniatura Pensavo che era bianca Sui, perché non mi dai questa bella Macchinetta liscio Eh, ora mi ha preso Mi dispiace Oh, ragazzi Setti che stiamo a vincere Allora, prendiamo questa macchina Ma mi ha schiacciato solamente il piede Vabbè, meglio così Così spawniamo con la Euros, regà Oh Vabbè Prendiamo questa qui Non mi schiacciate cortesemente, ok? Siamo pari Su in aggressivo Devo stare su in aggressivo Dai, dai Che dobbiamo vincere, regà Olè A parte che ho messo tre round, eh Perfetto No, no Dai, secondo me ho consegnato Vediamo Sì, sì Perfetto, perfetto Ci sono macchine buone qua in mezzo Vedo un pallino blu, sapete? Sì, sì C'è un pallino blu Quale sarà la macchina buona? Questa? Ho consegnato? Aspetta che te consegni Porca, man, c'è un veicolo Regà, forse ho consegnato Abbiamo perso, abbiamo vinto Che è successo? Dai, ciao Round vincitore Prossimo round Ok, regà Quarto round Se vinciamo questa Abbiamo vinto tutto Vinceremo? Non si sa Bella questa macchina gialla Regà, quella miniatura Bella accesa Via, via Rockstar editor Andiamo Qual è la parte migliore Per fare la miniatura? Si sa questa Ok No, non Non sono riuscita a saltare Ma non ci voglio Credi Prima non mi è successo Aspettate, eh Ci passo qui No, mi si rompe la macchina Ho distrutto la macchina Allora, hanno consegnato là Non lo so Ma che tanto dobbiamo fare La miniatura da dietro Eh, non succede niente Quindi è intanto Mo, mo supero tutto, eh No, tutto ok Tutto ok, perfetto Allora, devo scendere Bene Ma teoricamente Dovrebbe consegnare uguale, eh Ok, 100 RP Vai, sui sali No Niente 100 RP Ma il veicolo è ancora buono No, raga Non mi chiedete il perché, eh Allora, saliamo sopra questa macchina Comunque Il difficile di questo basket È proprio questo Che a volte non consegna, raga Dove sta andata sui? Non ho capito che stavo a fare Allora Mamma mia Io trovo l'acqua sui, no? Eh, raga Riesce a fuggire No, no, sui C'è il troio, vischi Dai che prendo la macchina Eh, un bronzetto di riasce, sì Andiamo, andiamo su Andiamo a prendere questa macchina Che stanno a vincere qua Eh, la vedo un po' dura No Pensavo che c'erano due macchine Invece ce n'è solo una Buona Oh Che fortuna Però gli mancano solamente due punti, eh Allora, secondo noi Qualche veicolo c'è là sotto, eh Abbiamo consegnato poco, no? Bischi ha consegnato, ok Vediamo Oh, ci arrivo, ci arrivo Perfetto Ok, a terra preciso Ok, dai Consegna, sui Consegna, consegna Rimango così C'è un terra IP Raga, manca solamente Ne mancano solamente due di punti, eh C'è un veicolo buono qui Eh, questo qui me sa, eh O questo No No, raga Solamente un punto Chi ha che fa il punto della vittoria? Cortesemente Fate il punto della vittoria, raga Voglio salire qui No, questa non è buona No, ho consegnato lui No, raga Abbiamo perso No Ok, quinto round Secondo me ce la faremo a vincere questo big basket Io spero proprio di sì, eh Adesso massima concentrazione questa verde Su, che la mia, la mia, la mia Ok Andiamo No, no, mi spiace, sui Dobbiamo vincere Tutti belli concentrati Ok Terriamo bene, raga Così No, no, ma sempre così, raga Ma perché c'ho sta sfortuna io No, no, rimettete bene, raga Non consegna Oh, grazie sui Sei in grande Consegna, consegna, consegna Ma Non lo so cosa succede, raga Vedete, non mi dice Ne consegna Ne prendi il veicolo Non mi dice niente Che strano Praticamente quando siamo sotto sopra Si annulla tipo il canestro, raga Vediamo Ok, ok Aspettate Vediamo adesso Ok C'ho in terra e p, raga Dobbiamo atterrare bene Questa è la difficoltà di questo basket Grazie Vabbè, meglio così, così Respawniamo con l'Euros Allora, vediamo un po' come sono messi i punti Bene, dai Perché vola sta macchina Oh, che sta succedendo È bella però questa, raga Sì, sì Ok, siamo pari Perfetto, perfetto Dove consegniamo? Da questa parte, ok Bella, bella questa, raga Oh No, hanno fatto punto loro, raga Chi è che sta volando a far canestro Insieme a me No Sì, sì Tutto ok Scendi, sui Scendi Perfetto 100 RP, raga No, a loro Mi manca solamente un punto Non c'ho Io, cari di No, io devo fuggire Mi devo fregare la macchina Non ho messo la macchina, sui No, raga Qualcuno è far punto della vittoria Cortesemente Dai No, chi ha consegnato, raga Sì Partita vincitore Comunque sì Se vi è piaciuto il mio Big Basket Leggermente strano Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo Al prossimo video Bello E noi ci becchiamo Grazie a tutti.